Ciao a tutti da Classic P55, oggi siamo qua con Enrico, proprietario di questa bellissima Uno e oggi ci parlerà ovviamente delle sue caratteristiche, della storia anche di quando l'ha acquistata e dici un po' Enrico, dai! Ma niente, io ho sempre avuto il pallino per la Uno e nel 2021 ho realizzato il sogno cercandola e trovandola praticamente subito, la sono andata a vedere già con il carrello attaccato alla macchina per caricarla e portarla a casa sapendo già che sarebbe stato amore a prima vista e così è stato, molto diversa da com'è adesso, c'è stato un po' di lavoro da fare però è stato un bel progetto ed è venuto fuori un bel giocattolo, lei parte da essere una 1.70 SL quindi con motore 1.300 Lampredi e già molto divertente anche da guidare e poi nell'arco del tempo mi è venuta la geniale idea di provare a cambiare il motore con un 1.500 sempre Lampredi che proviene da una Lancia Delta fino ad arrivare ad agosto del 2022 dove è stato montato, nell'officino dove lavoro e insomma adesso è molto divertente. Intanto il motore lasciamolo alla fine, parliamo intanto dell'assetto, l'assetto e specialmente dei cerchi. Allora, l'assetto è stato il primo step perché era molto alta, alta non mi piace e ho trovato questo assetto da una ditta di Torino che me l'ha fatto praticamente su misura, mi hanno chiesto quanto la volevo abbassare, io non ho voluto abbassarla tantissimo da farla strisciare per terra perché comunque la uso praticamente tutti i giorni quindi volevo che fosse anche molto confortevole. È una setta è andata giù di 6 cm quindi c'è stato un bel abbassamento e poi i cerchi, i cerchi è una bella storia perché io li ho visti ad un raduno montati su una Panda fatti così e ho chiesto con questo ragazzo dove li aveva fatti. Mi ha dato il nominativo di un ragazzo di Treviso, Mirko Frasson, lo dico perché è veramente un professionista e sono andato là con i 4 cerchioni in ferro perché lei montava 4 cerchi in lega e prendendo le varie misure di tutto perché è stato veramente professionale, ha preso le misure per non farle sbordare e quando li ho visti che me li ha spediti sono innamorato, ho detto mamma mia che meraviglia, ha fatto un lavoro pazzesco, li ho fatti verniciare a polvere, volendoli grigi però purtroppo per fortuna li ha sbagliati, ha sbagliato il colore, sono venuti fuori praticamente color panna bianchi e ho detto no, subito ho detto no porca boia, non farà schifo, invece montati è tutta un'altra cosa, cioè è bellissima, è venuta fuori bellissima, non pensavo potesse venire fuori una cosa del genere. Quindi dai adesso apriamo il cofano e raccontaci bene del motore, quali lavori sono stati effettuati effettivamente fino all'ultimo che è di qualche giorno fa effettivamente del carburatore e quindi dai apriamo il cofano e sentiamo un po'. Subito. Eccolo. Questo qui è il motore 1.5 che proviene da Anna Delta, tra l'altro venduto dal vecchio proprietario della Uno che mi ha contattato per chiedermi se ero interessato a un motore 1.5, io ero già da un po' che lo stavo cercando e ne ho approfittato subito e quando è arrivato praticamente è stato nello scatolo almeno almeno 10 giorni forse a dir tanto e poi non ce l'ho più fatta l'abbiamo dovuto subito smontare perché è stato rifatto totalmente, è stato smontato tutto, sono stati smontati pistoni e bielle, albero motore, albero cam, è stato smontato tutto. E' stata lavorata dalla rettifica un po' la testa, non una cosa esasperata perché comunque usandola tutti i giorni volevo che fosse anche affidabile. Sono stati lavorati i collettori di scarico, i collettori di aspirazione e poi grosse modifiche non ne sono state fatte, a parte cambiare tutte le componentistiche, distribuzione, pompa acqua, termostato, cose così. Però è stata fatta l'equilibratura dell'albero motore. Si esatto, è stata fatta l'equilibratura dell'albero motore con bielle, volano, pistoni, poi a dire il vero il motore è stato fatto non tantissimo, a parte l'ultimo step è stato fatto la settimana scorsa del carburatore, che è sempre un carburatore doppio corpo come il suo originale, però modificato, modificato un po' più grande dove si è sentita molto la differenza nell'erogazione e sinceramente anche nei consumi. Sembra impossibile ma consuma anche un po' meno. L'efficienza è stata raggiunta quindi... Ma e quindi adesso le farfalle sono cambiate da... Le farfalle da 30-32 sono passate a tutte e due 35. Lavorato anche il Venturi dentro da un professionista, tra l'altro il carburatore è stato scoperto per caso da un forum, si chiama Livio Salvino, di Torino, persona, a parte, molto professionale e soprattutto gentile, una persona gentilissima, stata molto disponibile quando ci siamo cambiati messaggi su WhatsApp, chiedendomi cosa volevo fare, cosa non volevo fare, come volevo la macchina e tutte cose così e lui mi ha mandato nel giro di due giorni questo carburatore con tutto il necessario anche per carburarla, come secondo lui potesse andare bene. Grazie anche ai suoi consigli comunque sono arrivato nel giro di pochi giorni ad un motore che gira veramente bene. non ha buchi, è molto lineare ed è veramente divertente da guidare. Allora arrivati a questo punto io direi di parlare dell'impianto di scarico, cosa è stato fatto? L'impianto di scarico naturalmente il suo originale non faceva rumore quindi è logico che un po' di rumore lo dovesse fare e ho contattato un marmittaio, lo chiamiamo, il marmittivendolo che praticamente è di Faenza, si chiama Fusquet, lo conosco comunque da tanti anni e lavora in modo artigianale nella sua bottega e quando l'ho contattato per dirgli cosa dovevo fare è stato subito entusiasta perché soprattutto lui è un appassionato anche di queste macchine qui e abbiamo parlato molto, mi ha chiesto come lo volevo, io lo volevo in una certa maniera, io lo volevo con il doppio scarico a fetta di salame. Subito l'idea era di farlo come il Golf GT quindi spostato leggermente da una parte che vedesse quell'effetto così e lui puntualmente mi ha detto fa cagare, ha detto parole testuali, mi rifiuto di fartelo, perfetto. Allora guarda hai carta bianca, l'importante che sia fetta di salame e doppio scarico. L'ho lasciata lì due giorni, quando sono andato a ritirarla appena l'ho vista ho detto mamma mia, non potevo pensare di meglio e poi come l'ho sentito in moto ho detto adesso ci siamo, poi naturalmente usandola è cambiato il sound in meglio naturalmente perché si sente molto bene, mi sentono quando arrivo. E si sente posso confermare assolutamente, che poi è un bel suono bello. Si non è fastidioso. Infatti si si assolutamente non è né troppo forte né troppo debole in effetti, molto gustoso. Adesso non ci rimane che provare la macchina. Certo. Andiamo. Andiamo. Ciao.